Il nuovo aggiornamento di Boastars era strafico. Iscriviti e non te ne pentirai. Incredibile. Il nuovo aggiornamento di Boastars. Finalmente è uscito l'aggiornamento. L'aggiornamento estivo. Qua abbiamo il bellissimo remodel di Penny. Guardate quanto è bello. Vediamo anche le reazioni rimodellate. Allora, perché non le avevo viste? Vabbè, sono molto belle. Hanno aggiunto nuovi graffiti ai boiler. Per esempio, a Jackie due graffiti hanno aggiunto poi. E hanno aggiunto anche nuovi graffiti, quelli standard. Come avete visto poco fa, mi hanno dato un sacco di gemme. Dato che ho comprato i graffiti, mi hanno rimborsato. Dato che gli hanno diminuito il prezzo. E adesso 95 gemme. E 19 gemme le spenderò per questa bellissima nuova icona del giocatore dell'aggiornamento dell'estate. 3, 2, 1... Me lo metto all'istante. E vabbè ragazzi, poi lo sapete, no? Hanno cambiato anche la Lega dei Club. E anche io poi devo capire come funziona ora con la Lega dei Club. Ragazzi, sto vedendo giochi del club. What? Facciamoci anche una partitella nel nuovo evento Cacciatori. Che dovrebbe essere abbastanza facile. Non regole di orientamento, ma in sopravvivenza. Si gioca. Allora, ho messo Bonnie. E io... Ma perché mi dice già subito posizione 1 su 10? Ma che? Ma manca abbiamo iniziato. Vabbè, già questo cinese, o quale lingua sia, ha fatto un'eliminazione. Vabbè. Fatemi fare anche a me un'eliminazione. Oh, Stecca. No, no, ti prego, Stecca. Fatti killare. Sono a settimo, Stecca. Sono a settimo. E ma come? Io ho fatto la kill e sono comunque a settimo. No, no, no. Aspetta. Comunque, ragazzi, questi sono botti. Ma come è possibile che incontro sempre botti? Vabbò. Comunque. Ma che significa che c'è qua l'emoji del re? Aspetta che sto crepando io. Sto crepando. No, stupida torretta. Ma com'è possibile? Vabbè. Già, sì. Fatti killare. Va. Fatti killare. Ti prego. Dai, ti prego. Fatti killare. Devo vincerla. Devo arrivare al primo posto. Sai. Devo arrivare al primo posto. Fatti, dai, per colpo. No, aspetta. Aspetta che forse lo killo. No, non lo killo più. No! Cosa? Un'eliminazione. No, 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 no. Aspetta. Aspetta. Fatti killare. Devo fare un'eliminazione e ho vinto, raga. Un'eliminazione e ho vinto. Perché di questo? Ho vinto. Ci siamo suicidati. Ci siamo ammazzati a vicenda. Ho vinto la prima partita nell'evento Cacciatori. Ho visto anche che c'è una missione da fare. Vincere otto partite. Ma non bisogna arrivare al primo posto, è vero? Bisogna almeno arrivare a quarti, no? Ah, ma guarda un po'. Non l'avevo visto che c'era già Otis che si può provare. Guardate qua. Come bello. Ma quanta copazia fa? Poi con il suo tubo. Cioè, si vede proprio palesemente che non è realistica questa cosa, eh? Questo buone ancora un po' non l'ho capito com'è, sinceramente. Fammi vedere. Ok, spara queste tre cose, ma che non vanno tutte dirette. Cioè, ce n'è tipo una che va in un'altra direzione. Infatti bisogna mirare bene. E se io tiro questa al robottino, giustamente non mi spara. Però, raga, ho scoperto che questa cosa dura pochissimo. Dura poco qui. Quindi, ok, l'ultimo andava bene. Perché dal boldock sembrava che durava tutto il tempo. Vabbè, raga. Ok. È bello che c'è anche qua il disegnino per far capire che gli hai piazzato l'ulti. Ma l'ulti fa danno, vediamo. No, no, l'ulti non fa danno. Ok. Dai, ci sta. Vediamo. Wow. Bella l'emote. Ma non capisco perché, per esempio, non hanno rimodellato le skin di penni. Cioè, io volevo tipo prendere pennilebre rimodellata. E invece no, è sempre uguale. Un po' come i remodel di Corvo. Quando avevano rimodellato Corvo, era il nuovo remodel. Ma tipo la skin di Corvo Matcha Noturno è rimasta uguale. Vabbè, ragazzi. Il video finisce qui. Aggiornamento top. E ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.